Allora ragazzi, bentornati con un'altra bella parte di Tiff Simulator Continuate a spaccare, io continuerò a portarvi delle oggetti grandi Ah, lo potevo portarne anche da qua Merda Comunque continuate a spaccare, io vedo di continuare e portarvi altre belle partine ragazzi Vedete di andare al 102, al 102 Perché abbiamo il coltello, non mi ricordo, abbiamo preso il coltello? Oddio, spero di sì Perché dobbiamo aprire le finestre Grazie a tutti per i consigli che mi state dando comunque, vi ringrazio a tutti, tutti Andiamo al 102 Vediamo di entrare e aprire i culi Dobbiamo rubare i documenti? Però abbiamo già l'attrezzatura per aprire il cassaforte eccetera Ciò che mi mancava alla fine era semplicemente il... Gesù Cristo No, quello ce l'abbiamo sempre No, mi mancava qualcosa per aprire le finestre Ho fatto il coltello, quello lì figo, ok Facciamo, io lo lascio comunque, anche questo ho aperto Perché non si sa mai, se rubiamo qualcosa di pesante lo abbiamo Ah Che bello C'è qua qualcuno Shit, 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 dai, dai, dai Fuck Perfetto, c'è gente pure in casa Gente in casa a me non mi ha sfatto le palle Oddio, oddio 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 l'ho sfangata Marciucciamento di palle Vado, vado, vado Vabbè non mi hanno sgamato, non ho chiamato la polizia Fanculo Vabbè È stato bello, è stato bello È stato bello È stato bellissimo Basta, non vado È andata benissimo però Cioè a parte quei pezzi di merda che mi hanno visto Però fa, non fa nulla, no? Nessuno ha chiamato la polizia Vediamo quanti puntini Eh, cioè Eh B Quasi A Cioè Quel piccolo dettaglio ci ha fregato Mannaggia Segna la fotocamera nel 101 Vabbè Non so che posso acquistare i consigli qui Però non me ne frega un cazzo Cioè Mi sembra così che ti rovini un pochettino il divertimento di entrare nella casa O comunque scoprire le loro routine E scoprire magari anche Da sé I Cioè le cose Non so Le cose Le cose costose Non lo so Comunque Aspettate che passo un attimo a rivendere due robe E' il banco dei pegni Vediamo cosa Ma no Porca 3.500 Questa è merda Che roba Anche ste robe Meh Oddio Avevo fatto il Top con quella roba C'è troppa roba secondo me Che costa molto di più ovviamente Io devo puntare La roba è più alta adesso 1500 all'ora Aspettate che c'ho i punti Mi sa che faccio questo Ci muoviamo più velocemente Ora dobbiamo andare Il 101 Segna la fotocamera Segna la fotocamera Il 101 è davanti a noi No? Dormiamo un po' Dormiamo un po' Almeno fino alle Mezzanotte Mezzanotte Ah ma guarda un po' Qua era la casa del tipo Che mi aveva fregato subito All'entrata perché c'era la telecamera Che devo fare? Oddio è pure a tempo Che bastardi Fino da tipo un minuto qualcosa no? 3 minuti ho praticamente Ruba tablet con dati importanti Lavora da 569 Questo mi riesco a andare grosso Potrebbe non esserci nessuno in casa Come potrebbero essere tutti svegli Per quanto adesso Abbiamo 166 secondi È di sopra il tablet Sono un idiota Che per questo qui Ha anche la pistola laser La pistola laser Cazzo di La pistola Taser Non laser Idiota che non sono altro Pistola laser Cristo dove sto? Non lo so nemmeno io Devo fare una roba tipo fuori in 60 secondi Fuck Oh Proppa grazia capa santa Non credo ci sia qualcuno in casa Però devo andarmene Oh signore Cacchio Con 15 secondi in avanzo Però ce l'ho fatta Gesù Maria Avemo di nuovo 230 secondi Solo che adesso Tecnicamente è tutto aperto Chi ha scoperto il furto? Cristo Com'è possibile Che abbiano scoperto il furto? Mai mi avrete Oh Gesù Maria Forse sì Mi stavo per cadere in un dilupo Shit Shit Forse è tornato prima Non lo so Non lo so F Che palle Ripuliscilo E mandamelo come prova Come cazzo faccio? Impala abilità elettrica Elettronica A livello 1 Non ho Punti Sono stato un idiota E ancor meno Posso vendere Le robe che ho Qua vabbè Qua non posso vendere un corno Aspetta eh Mi devo liberare un pochettino di roba Allora Chiave da porta ingresso Ecco Queste cose Tutti i telefoni bloccati Non ce le facciamo nulla Tablet Lo tengo in mano Se ne frega Tanto devo ancora imparare le abilità Quindi sapete che facciamo Visto che abbiamo queste cose nuove Queste attrezzature nuove Per aprire le finestre eccetera Torniamo a Greenview Street Ragazzi allora è mezzanotte Io direi di fare una roba Dal tizio di prima Questo qua Abbiamo avuto abbastanza successo Quindi io direi di ripetere la magia No? Quindi facciamo così Stacchiamo Alimentazione Delle telecamere E vediamo cosa possiamo trovare dentro Però prendiamo poca roba Andiamo via Mi servono i punti Cribbio Dobbiamo fare Punti 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 Devo fare una rapina perfetta Un furto perfetto Senza farmi sgamare E che ogni volta Ovviamente non so Quei cretini Quando tornano Le routine di merda Quindi rimango fregato per questo Andiamo Controliamo Solo il primo piano E poi ci leviamo dalle balle Calice d'oro Subito via Cassaforte Cassaforte Cristo C'erano due cassaforti C'erano una al piano di sopra Ma pure questa Gesù Maria Sto per mollare Sto per andare Anche la piavata Uuuu Vabbè prendo un po' di merda A random Mi serve La fanculo Eh sì È andata così bene Dove ho parcheggiato La mia macchina Dove ho lanciato La tv Oh Gesù Al momento la vedo più Se mi vado a passeggiare Così con una tv in mano Pensano che sia un ladro O cos'è Guarda S Allora siamo a livello 14 Abbiamo un punto Quindi qua Era questo Per forza Sì È il momento di controllare Le skills hacking Assurati che Buongiorno Le strutture Eh non so se ho soldi In realtà Aspetta prima devo andare A vendere sta roba Sì Vai qua Guarda I miei smeraldi Ok fatto tutto Andiamo ovviamente dal Dal banco dei pegni In un certo punto Non vado a vendere queste cose Ricci Ri street Oh mio dio Sono altre zone Altri quartieri Ci sono Welcome back TV Tieni Tablet con dati importanti No Mi serve Guarda Guarda Cazzo Vado il blu Vabbè Ste cose Cazzate Perché Ciò danno Fa nulla Ma il tablet Mi serve C'ho 7.650 Dollar Quindi Portiamo a casa Mi serve Non lo so Cosa mi serve Un PDA Un PC Non lo so Il PC costava veramente Un fottio Quindi non credo Di potermelo permettere Non credo sia neanche Quello che ci serve Questi Frumamente Strumenti per hacking Mi serve Questi Mi serve Hacker Tablet Akaja Dove mi vedo Mentre per hacker Ah è qua Ecco Oh merda E' mo' sta roba Ah Era quei giochetti Così Ha capito Buon lavoro A questo Rai Siamo Tutti In No Time Ora Sendami Il tablet A Blackbay As you wish Bitch Tieni Sanno 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 Poi Poi In Blackbay Certo Ma Hai Scegliato Se Vuoi Che 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 Ripulisco Posso Venderli Così Ora Questi qui Voglio vedere Quanto Mi valgono Sono Molto Curioso Perché Sono Telefoni Nuovi Ma Lano Bloccati Avendoli Sbloccati Voglio Vedere Al banco Dei Pegni Quanto Me Li Valutano Perché Così Inizio a Prendere Anche Quelli Quando Mi Capitano Sottomano Vedo Come Venti Puttana Eh Cioè Non Non È Poco Eh Ma Come Sempre Io mi sto contattando Delle Bricioline No Ah L'abilità Del Merda L'abilità Quindi dobbiamo andare A Dobbiamo rapinare Un'altra casa Ragà Però andiamo qui Il nuovo Nuovo quartiere Richie Street Qua mi pare Mi pare che ci sia Gente ricca Cioè E Ricci Street Cioè Alle 23 Qualcuno Sarà già andato All'anno No Devo fare Punti Ragà Quindi Tanto vale Tanto vale Proprio Per entrare In un'altra casa Cazzo Però Qua Gira Parecchia Gente Anche se È not I Reed Sono Questi Non Non so Niente Di Loro E Loro Non Sono Niente Di Ma Non Mi Posso Nemmeno Arrampicare Non è Come Sembra Signore No Perché Vedo Parecchia Gente Che Passa In Zona Non Pensavo Di Poter Vedere Anche Il Raggio D' Azione Della Telecamera Cioè Ok Vediamo Raggiudazioni Ah Questa Merda Di Telecamera Si Muove Che Arriva Quasi Fin Dentro Il Portone Di Casa Problema Che Sento Gente Che Sveglia That's Eh Merda Guarda Questi C'è Il Pd Mi Sembra Il Pd Ad A Cacchio Vabbè Dopotutto La Casa Dei Ricchi Questo Ho Comunque La Sensazione Che In Queste Cioè Sono Tutti Uguali Tutte Sono Molto 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 Blindate E Mi serve Un Upgrade Di Tutta La Mi Atrezzatura Secondo Me È Così Non Credo Ci sia Una Casa In Che Possa Entrare Dalla Finestra Siamo Tratti Il Andare Onestamente Perché Queste Case Me Le Sono Già Svaligiate Per Bene Non So Dove Andare Questa Questa L'avevo Già Controllata Questa No Però La Blu Non Mi Ricordo Perché Mi Ricordo Che Avevo Fatto Questa Salita Ed Andato Lì Vediamo Che Ah Ecco Perché C'è La Serratura Benissima Oddio C'è 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 Ascoltando Music Apriamo Il vetro Fanno Un bel Buco E Vabbè Fanno Punti Lo stesso Money Non so A che Piena Con la Merda Ma Devo Fare Punte G Quindi Fa Niente Cappello Di Merda Oh Minchia Si Marta Enjoy Merda Però Gli rubo Il controller Ti Eh Non me la smammo Meglio Non esagerare Mio Vado Via Con stampante Gioielli Nessuno Mi ha Sgamato Piripiri 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 Pippi Pippi Via Andiamo Prima A casa Bene Per sto Soldo Andiamo Prima A casa Preparo I gioielli E poi Li porto Le vando Un furto Da manuale Questi S Ma Porca Troie Siamo andati Benissimo Ah Furto D'auto Sta roba Devo imparare Rimuovere Parti Dell'auto Rubare Auto Senza Allarme Parti Parti Sì 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 Ok Ma non è troppo luminescente Sì Guarda che ho detto questa luminosità Al massimo Zio Ti sto facendo diventare ricco 220 dollari il pad pensavo valesse di meno aspetta, 12, 7, 13, 9, 13, 33 vuoi vedere l'altro quanto me ne vado da ste cazzate mi sa che questo però prende pentole cioè robe di metallo così che non valgono un cazzo, non credo di potergli vendere ste robe, per virgolette, peggiori no, vedete, ok, perfetto era giusto per togliermi i dubbi ok, c'ho 8251 dollari praticamente dovrei tecnicamente rubare un'auto o pezzi dell'auto, non ho capito bene ma c'ho 8251 dollari quindi forse posso comprarmi qualcosa di nuovo qualche attrezzatura nuova strumenti per hacking ecco, grimal dell'elettrico sarebbe ah, ottimo minca, valutazione di valutare occhiali per visione autunno saranno spettacolari da aver deciso no, no, non posso comprare nulla, però vabbè, fa nulla non mi interessa allora, dato che abbiamo 8251 dollari io vorrei comprare questo il grimal dell'elettrico in caso così siamo siamo pronti siamo rimasti con 251 dollari cioè nulla però adesso andiamo a rubare la bolt orno 86 classic credo sia qui però non è nel quartiere di ricky lì ci dovremmo andare quando avremo tutte le attrezzature praticamente tutte le abilità perché lì serve tutto allora, tecnicamente dovrebbe essere qui, no il problema è che non la trovo mai in realtà ma per scusa se prendo quell'auto come faccio a come faccio con questa? non so se la devo rubare tutta l'auto oppure intende magari un pezzo dell'auto non lo so facciamo fino alle 23 dai però è impossibile ci sia tutta sta gente a quest'ora in giro, dai adesso diciamo chiazzate lavoro da 1000 dollari altrettanto cazzo mi pare davvero che ci sia ancora qualcuno in casa oh no non fa casino oh cristo sta roba ok sì ma il cancello è chiuso il cancello è chiuso come cazzo lo apro? ah c'è qua l'intruttore non di nuovo ciao levati dal cazzo pezzi di merda no non mi avrete mai b che ce l'ho fatta al primo tentativo non me lo frega niente va che bloccano da qua gli sbirri giro 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 vai 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 siamo arrivati siamo arrivati sì grado F probabilmente però vabbè cazzo lo so ma non me ne frega nulla oh dio che c'è qua scatola per Ricci Ricci go to Ricci R204 and stick it in his bedroom drawer minchia oh mio dio ok Ricci R204 è il quartiere di Ricci quello però non lo so su tutto la valutazione questa mi interessa un botto ma veramente un botto ma anche queste robe sono da fare eh eh cribbio però la valutazione sul posto mi garba un po' quindi faccio questo dai perché tutte queste case non so se ve le ho già fatto vedere ma hanno tutte le telecamere di sicurezza solo nel giardino e poi una volta che riesco ad entrare anche se supero il telecamere di sicurezza c'è ehm un sistema un altro sistema di sicurezza alla porta e le finestre sono tutte chiuse quindi devo provare o entro di mattina perché non so se hanno le tappanelle alzate di mattina non l'ho controllato però già il fatto che ci sia il parcheggio lì vicino mi garba sai guardate le telecamere poca tra io non mi pare c'è un'altra telecamere aspetta bello ma no aspetta questi non ho fantastico pensavo avessero anche questi il sistema d'accesso quello complicato invece no eh però sono belli svegli mi sa eh la madonna come l'ho fatta a scoprirmi sto camminando pieno piano come diavolo fanno a scoprirmi beh facciamo che cambiamo orario provo però c'è una bella casa un bel frigo anche per una usb vediamo cosa hanno di bello oh 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 guarda si può rubare ah guarda qua vediamo che hanno ok dai dai oh un vaso un vaso antico però eh questo vale un botto fuck si sono alzati oh jesus oh jesus ma come lo metto qua ma sei serio non me la fa mettere raga un antico manifesto non me la fa mettere posso intendere qua dentro ma vaffanculo controllo ancora qui c'è questa cazzo di luce che si accendono di continuo ok ricordiamoci le telecamere dove sono ecco qui c'è che si devono sempre fare cazzilola o cazzi miei cazzilola è andata bene considerato che sono svegliato ero in casa loro praticamente direi che mi è andata di culo B dai potremmo andare molto meglio mi servono due punti no no questo mi serve che l'ho fatto forse era questo che intende aspetta che controllo online perché forse c'è qualcuno che vuole ste robe che ho preso baso antico vendi 2000 dollari eccolo antico manifesto alla grande crebio 7555 dollari e in più dobbiamo vendere anche altre robe che ho banco delle pigne welcome back porca troia c'è tanti dendene tante dendene però dobbiamo salire di livello quindi sapete cosa facciamo corriamo di nuovo il rischio andiamo a richie air street ci intrufoliamo verso le 11 più o meno quell'orario lì andiamo di nuovo a casa loro e finiamo di controllare tutta la zona perché tanto loro si svegliano verso il mattino quindi sì credo sia una delle poche case fattibili in questa zona con l'attrezzatura che ho ora ovviamente quindi dobbiamo puntare al allo schermo all'imek praticamente devo puntare al mac che ci da tanti dindini mi sa che sono ancora svegli comunque un tablet bello mani questi telefoni mi danno tanti dindini quindi sì mi conviene prenderli valgono un pochettino basta che non entri nella loro camera perché stanno dormendo e via brutte merda non ho nulla sarei tentato ad entrare in cammellarolo ma ogni volta mi sgamano quindi preferisco di no c'è lo zaino ancora da riempire una bottiglia di vino una bottiglia di vino mi fa cagare oh ma guarda un bracciale oh mi avete detto che posso mettere le cose anche in macchina nella scatola in effetti sì ok io direi che esco non ho più spazio se riesco prendo questa roba ma non credo ok c'è spazio di giorno in giorno si risvegliano sempre con meno cose in casa e tutti i soldi spariti perfetto poi proviamo altre case devo provare a 205 solo che adesso siccome devo salire un po' con il punteggio ovviamente mi tocca fare queste robe perché così saliamo con i punti eccetera eccetera vedi vedi cazzo sto migliorando rimango sempre una secca ma sto migliorando allora devo fare elettronica di livello 2 punti abilità rimane allora l'avevo già fatta sta roba non lo so perché non me lo fa fare ah livello richiesto 20 ok devo salire un po' di più con il livello richiesto aspetto un attimo ho un bracciale ma lo devo ah è questo perfetto ora devo hackerare un paio di telefoni sono bloccati però fattibile fattibile un giro tutto fantasmagorico ma ce l'ho fatta anche questo queste li rivendiamo sono 1000 dollari più o meno al telefono quindi si guadagno c'è anche qua è poco perché è poco eh lo so benissimo che sono cose molto più costose infatti mi sa che ti faremo a puntare alle macchine fra poco welcome back tieni 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 guarda sta roba 1900 500 900 1200 amen proprio c'ho 13000 dollari allora dopo un rapido resoconto qua non possiamo assolutamente fare un corno perché hanno sistemi di sicurezza troppo cazzuti cioè a parte la 204 che lì sono entrato tranquillamente le altre hanno tutti i sistemi di sicurezza in più anche guardie quindi non possiamo entrare con i sistemi che abbiamo adesso quindi dobbiamo tornare nell'altra casina nelle altre casine sapete cosa gli foto la stampante e mi levo del coglione ce la faccio prima a lanciarla e andare avanti perché se no è troppo lento cristo si beh ho fatto degli acquisti mi sono comprato una stampante me la meritavo quindi siamo andati al 113 adesso jesus ma non male che tipo ho aumentato oddio non so se l'ho aumentata ma forse no no l'ho aumentata la velocità di quando prendo gli oggetti in mano non mi pare che sia così veloce in realtà ma tipo probabilmente se esco dal loro campo visivo anche se mi hanno beccato tipo non chiamano la polizia però se rimango al loro campo visivo la chiamano oh finalmente ce l'ho fatta sbloccare il livello nuovo tieni 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 sono un idiota perché ho avuto controllo se servivano prima vabbè nel black market ora ci chiamo quell'idiota ah disabilità all'arma per te staccata ma voglio vedere che razza di giochetto c'è dietro guarda rimuvi solo i cavi collegati alla batteria la rimozione di un cavo errato all'arterato automaticamente la polizia quindi questo questo e questo oh ha detto 206 ha detto perché mi scrive 204 io non capisco il tizio dice una cosa ma la traduzione dice un'altra cosa vedi anche lì sopra c'è scritto 206 ma c'è scritto 204 nei sottotitoli vabbè non facciamo altre domande faccio vedere io sono pratico adesso abbiamo un po' di attrazzatura per entrare anche in queste belle casine nel salotto però vado a dire questo signore qua sa che dovremmo andarci di notte dai proviamo di notte ok ecco l'altra telecamera fuck ma guarda un po' che abbiamo qui oh decisamente no oh no questo me lo porto i volentieri via ma da quando la devo posizionare nel salotto ma non è questo il salotto vediamo che altro hanno questi oh vi giuro le volte lo pre cioè lo premo lentamente come ho imparato però ma non è che è una bella macchina qui un giro antico questo potrebbe volere qualcosa decisamente questo lo dobbiamo fare andiamo uh troppa grazie capa santa si è messo pure a letto ma no non mi sa che me l'attento allora continuo a controllare il vaso antico lo devo portare via cioè senza se senza mai il vaso antico va portato in salvo non te ne fai nulla del laptop casa estero oh oh fancù merda inventario pieno jesus raga dopo cosa è per uscire ce l'ho quasi fatta ok 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 ho preso anche il vaso antico ciao grazie di tutto vediamo quanti puntini eh eh sta andando benissimo ma no quanti cazzo di punti ho fatto ne ho fatto due di colpo fa vedere ne ho tre eh questo addirittura ha tre non lo so nestamente permette di muovere l'allarme dalle auto ovvio aumentare sta questa nestamente più spazio nello zaino un punto però possiamo fare anche questo in realtà ho fatto tutto ho tutte le abilità scoperte tutte cribbio vediamo cosa posso vendere delle cose che ho rubato ho preso cose antiche quindi su black bay probabilmente possiamo riprendere no guarda ho orologio d'argento e ora 3600 vai e vai guarda ho gente di antiquariato là ho orologio antico pentola antica cribbio sei poi credo avere qualche telefono da sbloccare ole è un altro andato dobbiamo riprenderli mo che non credo li possa rivendere qua fai vedere ok venduta la collana la storia ci dice dormi un po' mi sa che è ciò che faremo quindi ragazzi io spezzo quel let's play spero vi sia piaciuto noi ci vediamo con la prossima parte mi raccomando spaccati di like lo stiamo anche per finire probabilmente ma poi voglio svaliggere tutte le case voglio prendere il tutto 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 voglio prendere quindi ci vediamo con la prossima parte ciao a tutti